Musica Dopo la sosta di due settimane torna il massimo campionato di futsal e noi siamo andati a sentire che aria tira in casa della capolista Acqua e Sapone Unigros. Due settimane di sosta per questi impegni della nazionale, tra l'altro voi avete fornito quattro giocatori alla nazionale italiana, voi vi siete allenati, avete disputato un amichevole e adesso sabato ci sarà questo confronto interno al Pala Santa Filomena di Chieti ore 18.30 contro Catania. Che squadra rivedremo dopo queste due settimane Tino? Vediamo perché con l'aiuto dell'Under possiamo allenare ogni giorno e adesso oggi recuperiamo i giocatori della nazionale il primo allenamento per loro, domani è il secondo. Gioca molto bene questo Catania, tra l'altro neopromosso e occupa la settima posizione quindi ha messo già in difficoltà nell'ultimo turno il Pesaro. È vero, è vero, per noi è importante rispettare questa squadra, il suo gioco tanto in attacchi come nella difesa e per noi è troppo importante provare a fare il nostro gioco abituale. Voi però siete non solo campioni d'Italia ma comandate la Serie A, avete un buon margine sulle inseguitrici, volete continuare e consolidare questo primato? Sì, non voglio pensare che siamo al primo, per me è importante ogni partita, sono tre punti, cominciamo questo ciclo di partita, primo con Catania dopo... Noi ci sarà un ciclo di ferro perché andrete a Pesaro che è terza in classifica, poi doppio confronto casalingo contro Lollo Caffè Napoli che occupa la quarta posizione e poi arriverà il Rieti secondo. Sì, sì, terminiamo con, finito con Eboli, prima la finale, un mese e mezzo è complicato. E quindi insomma alla fine di questo ciclo si faranno un po' i conti, no? Avete fatto una tabella di marcia? Sì, 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 adesso comincia un nuovo ciclo, adesso siamo contenti perché abbiamo arrivato a questo riposo, a questa parata prima, ma non possiamo pensare a questo, lavoriamo per vincere ogni giorno e vediamo se facciamo una bella partita il sabato. Sabato alle 18.30, lo ripetiamo, Pala Santa Filomena di Chieti, c'è il Catania, a voi mancherà lo squalificato di Olivera, il resto tutti a disposizione? Sì, tutti vediamo, tanto Calderoli come Jonas hanno un piccolo problema, non so adesso, dipende da me, del staff medico, se è possibile che loro puoi giocare o no, vediamo, fino all'ultimo momento credo che sia possibile. Perez, delle squadre che inseguono l'acqua e sapone, qual è quella che vi preoccupa, tra virgolette, di più? A me tutti, non posso parlare solo di una, io rispetto a tutte le squadre, è vero che possibilmente Pessaro sia fatto con un presupposto un po' maggiore, ma per me Napoli, anche se è una squadra molto bene allenata, anche Rieti che ha vinto la Final Four, dopo vincere a noi, dopo vincere a Kame Dosson, per me tutti sono difficili e il massimo rispetto per loro. Parlando di livello tecnico, questa Serie A in Italia com'è? Le piace? Si potrebbe fare di più? Sempre mi piace, veramente mi piace, penso che è più forte che la Serie A di Russia, anche della Serie A di Portugale, ma penso che sempre con un lavoro è bisogno di migliorare, per questo siamo qui, io penso che inizialmente partendo dalla base, è fondamentale per il calcio A5 italiano, lavorare di più con i ragazzi. La Quasapone Unicross è una squadra con grandi individualità, però il tecnico è colui che deve dare un gioco di squadra proprio ad ognuno di loro, è qui un po' la difficoltà, allenare queste grandi individualità? Per me non è una difficoltà, per me è più facile, il problema è quando non ha troppa qualità, ma siamo una squadra con grandi giocatori, ma con un estilo, con una idea di gioco, con una filosofia, che adesso dopo un anno di lavoro loro capiscono molto bene e penso che facciamo un futsal, un calcio A5, dinamico, aggressivo, in difesa e con molte occasioni di gole. I suoi giocatori li conosceva più o meno tutti, però qual è quello che la sta impressionando di più, che è cresciuto di più? Non mi piace parlare di un giocatore, mi piace parlare di tutti, io sono troppo contento perché questi anni di lavoro loro hanno lavorato tanto, tecnica fisica, hanno migliorato tanto in tutto, che hanno arrivato anche i risultati, siamo troppo contenti per vincere anche il primo campionato, la Coppa d'Italia, e vincere di una forma più regolare nel campionato, nella Serie A, che per me sono tutti buoni. Stiamo parlando del campionato, però a marzo dal 20 al 24 ci sarà la Coppa Italia, anche lì ci tenete, no? Sì, per noi è una Coppa troppo difficile di vincere perché a una partita non hanno favoriti, squadra favorita, è vero che noi partiamo come l'ultimo vincatore, ma penso che per noi è una nuova illusione, una nuova possibilità di vincere un nuovo titolo. La famiglia Barbarossa, a proposito di vittorie e di trofei, le ha chiesto di vincere il campionato. Sì, chiaro, è normale. Penso che l'esigenza e la mentalità parte della máxima, in questo caso la testa, la testa della famiglia Barbarossa. E' chiaro che ringraziamo a loro tutto quello che hanno fatto i fani per il calcio a 5. E inizialmente questa buona pressione per vincere, questa ambizione, si deve contagiare, si deve assumere per tutti, per tutti gli staff e anche per la squadra, per i giocatori. Penso che è molto buona questa ambizione. Non so se è prematuro, ma Tino Perez rimarrà anche l'anno prossimo? È molto prematuro. Penso che sono troppo contento qui con la squadra, con il giocatore, con la famiglia Barbarossa. Non so che può deparare il futuro, ma siamo professionali e tutto può accontestere. Con la squadra, per la squadra, con la squadra, con la squadra. Siamo siamoứcично vivosiamo! renchedini per Wähищare dell'amore di M 아까 den io!